Si doveva prendere una decisione importante riguardo il riscatto definitivo, sono stato in Romania, non sono intravisto perché a volte bisogna intravedere quanto si tratta di ragazzi del 1998, lui invece ha qualcosa in più, mi ha aiutato molto invece a vedere già delle potenzialità importanti, è logico che trattandosi di potenzialità importanti speri sempre che diventino qualità importanti e spero che Gianessi lo possa essere. Si spera sempre che possano diventare tutte qualità importanti, la speranza è sempre quella quando si scommette su delle potenzialità.